Nuova giornata di caos in A14 nel tratto picciano interessato dai cantieri tra pedaso e grotta mare. Un maxi tamponamento con sei feriti si è verificato nella tarda mattinata di giovedì all'interno della galleria San Basso di Cupra Marittima. In direzione sud si sono formate code fino a 8 chilometri, con la situazione tornata alla normalità solo nel primo pomeriggio quando è stata riaperta prima una delle due corsie e poi entrambe. Coinvolti due mezzi pesanti tra cui un'autocisterna che trasportava benzina e gasolio e due auto che di fatto hanno bloccato la viabilità per alcune ore paralizzando il traffico in direzione Abruzzo. Pericolo scampato verrebbe da dire visto che l'immediato intervento dei vigili del fuoco con tre mezzi dai distaccamenti di San Benedetto e Fermo ha scongiurato eventuali incendi o peggio il rischio di esplosioni. Tutti i mezzi coinvolti sono stati messi in sicurezza e la cisterna è stata ascoltata dagli operatori fino a un luogo sicuro fuori dalla galleria dove è stato effettuato il travaso dei liquidi infiammabili. Quattro i feriti soccorsi dalle ambulanze del 118 di cui tre in codice verde trasportate all'ospedale di San Benedetto e uno più grave trasferito con Icaro al trauma center di Torrette ad Ancona. Ma le sue condizioni fortunatamente non sarebbero critiche. Due invece sono stati medicati sul posto. Come detto molto pesanti sono state le ripercussioni sul traffico con la viabilità gestita dalla polizia stradale della sottosezione di Porto San Giorgio e da personale di società autostrade. Gli agenti guidati dal comandante Williams Di Mizzio avranno anche il compito di stabilire la dinamica ed eventuali responsabilità dell'incidente. L'ultimo di una lunga serie in particolare da quando su quel tratto insistono i cantieri per la messa in sicurezza delle gallerie.